Il problema non si può risolvere col volontariato, ci vuole una struttura organizzativa molto forte, molto cooperativa, qua parliamo di migliaia e migliaia di persone, decine di migliaia di persone che resteranno sui nostri territori per molto tempo, quindi ci vuole un'organizzazione molto forte e quindi ovviamente il Comune di Napoli come sempre farà la sua parte, però noi aspettiamo le indicazioni che ci devono arrivare dagli organi che sono deputati.